e salve a tutti amici della taverna e benvenuti in questo secondo episodio della taverna sempre in compagnia del nostro amico dylan ciao amici che bello ve lo diciamo che la seconda volta che lo registriamo fortunatamente erano passati solo 15 minuti però io mi sono accorto dopo che non stava prendendo l'audio di dylan poi io riascoltando stava anche c'erano anche interferenze nell'audio e quindi meno male meno male l'ho scoperto solo dopo 15 minuti meglio dopo 15 minuti che a fine della registrazione del podcast mi sarebbe stato un problema posso iniziare a dire da subito che in descrizione ci sono tutti i link utili instagram e twitch del signor dylan ovvero games tavern tv insieme a samuele fanno le live ho fatto un salto anche nella taverna amici e poi su instagram fanno gli articoli quelli che magari anche non tutti quelli di cui noi parliamo durante questo podcast e poi c'è anche il nostro patreon che lo conoscete già credo che cos'è un patreon insomma la gente mensilmente può dare dei soldi ci sono un tot di di pledge come si chiamano e uno sceglie quello che gli interessa di più e ovviamente ci sono anche cose che verranno date dipende da quale viene scelto e tutti i ricavi andranno nella nel podcast sostanzialmente esatto per migliorare la qualità tecnica audio video tutte ste robine qua esatto quindi niente noi dobbiamo riparlare sostanzialmente magari escono cose nuove esatto e direi anche perché stasettimana come dicevamo anche prima nessun successe di cose partendo proprio dal fatto che è uscita ormai l'introvabile è improbabile che queste sono cinque e qua abbiamo un uomo che può testimoniare riduce di guerra riduce di guerra dal d day sì perché sostanzialmente io e mio fratello ci siamo messi proprio grazie al al coso al post al post di instagram di che ha fatto dylan amazon il 19 c'era scritto che alle 1 avrebbe rimesso le console o comunque dopo le 1 infatti dalle 1 essendo che non ho la f5 nella mia magica tastiera proprio ero lì a cliccare la la rotellina quella del refresh del refresh si il refresh di refresh ogni volta che appariva e sono stato così per un'ora e 45 finché non arriva disponibile clicco subito in acquista ora e non metti nel carrello perché volevo risparmiare anche secondi importanti e non è servito assolutamente un cazzo perché faccio acquista ora vado a pagare l'articolo non c'è più io io ragazzi non ho non non ho parole non ho parole la mia tenaccia come no complimenti per se parlando ma io non ho parole di come sia possibile che in pochi minuti siano andati immediatamente sold out c'è c'è cazzo di italiani no ragazzi no la gente si lamenta lì non ci sono i soldi poi le serie 30 dell'invidia sono andate sold out e adesso le console di next gen in particolar modo playstation 5 sold out ciao va bene quando sarà prossimo stock cosa che quando dicevi prima perché prima marzo aprile ok però perché appunto il boss non si aspettava tutta questa richiesta lui voleva voleva soddisfare praticamente uno a uno la domanda che c'è che lui pensava ci fosse o che attualmente c'era per per la play ma poi ha fatto un boom stratosferico e appunto non non sono riusciti per questo sono comunque introvabili però si parla di marzo aprile proprio perché quelle che loro adesso fanno sono praticamente per quelli tutti magari milioni di ordini che ci sono stati nonostante la play non c'era e quindi sostanzialmente bisogna aspettare tanto per tanto guarda come dicevamo prima riprendendo un discorso che comunque abbiamo fatto sabato sera in live e anche una live del signor formaggi del buon dario grande dario esatto bello bellissimo aprile 5 comunque a livello tecnico è migliorata tanto e più frame rate rtx inclusa e tutto ssd ok però non è accompagnata da un parco titoli ampio cioè ora come ora se io volessi acquistare playstation 5 lo farei semplicemente per giocarmi demon souls che te la pari in casino non vedo l'ora di giocarlo e poi giochi che sono comunque cross gen ancora tra passaggi generazione tra 4 e 5 come può essere magari valalla o non mi dispiacerebbe anche giocare il nuovo spider man però proprio su play 5 demon souls e attualmente sì attualmente sì perché non so se è anche per c'è 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 e a per le vecchie generazioni intendi non ci ci guardo ci guardo perché c'è anche quello però non saprei quanto alla fine cambia sì che su sì sì alla fine se 5 c'è rtx c'è l'implementazione col dual sense che è figa che figa appunto come si diceva nello scorso episodio il il grillettino va a ritmo diciamo con lo sparo quindi è una figata assurda c'è il rinculo nel grilletto e lui che flessato no non so flexando il nome stavo riguardo l'intensità della lampada perché stava ceccando vedevo in camera quindi un pochettino diminuita no quello è una quello è una figata e questo e qui riprendiamo il discorso che abbiamo fatto nella scorsa puntata tra l'altro dove avevamo un po paura di come gli sviluppatori che fanno giochi multiplatform come può essere activision che fa pc xbox play eccetera eccetera se se avessero l'intenzione di implementare di sfruttare con il sistema del dual sense con i loro giochi 3 arch e activision hanno fatto subito sta cosa del trigger che ti cambia quando ti si ti si scarica l'arma a seconda dell'arma che utilizzi e tutto è figa è veramente bello da una parte meno male è solo quello perché sarebbe inutile come su astro frail room che ti fa provare tutto appunto che senti i passi su su dove lo tieni senti anche la differenza di terreno che sotto sì quello lì fa per un fps un po inutile magari boh non so se per la campagna però per un titolo come può essere appunto un valala lì già ci può stare un implementazione completa allora lì ci starebbe però tutto questo per dire che a livello di esclusive per adesso per carità con quello che hanno mostrato poi comunque come ho sempre avuto fiducia in sony sono stra fiducioso del fatto che comunque poi presto tardi il parco titoli si ampliarà di tanto e con dei titoli veramente belli però ora come ora a parte di monstros non ho grande interesse per dirti anche se lo stock ci sarà marzo sì va bene ci può stare ci può stare spider man di interessante però appunto si si che praticamente sembra un dlc perché è stra mega esatto esatto cioè e anche lì bello bello spider man anche il primo quello per playstation 4 mi è piaciuto molto ma un gioco che si basa comunque sulla campagna perché single player poi me lo fai corto per carità lo fai anche bene quanto vuoi non lo metto in dubbio però me lo fai corto si basa sul single player ma poi anche i soldi che vai a dare perché non è che dici guarda star wars qual è quello delle astronavi squadron si ok 40 euro perfetto 40 euro vanno benissimo il gioco per 40 euro ha la lunghezza giusta non so se supera le 10 ore però alla fine per 40 euro ci sta c'è anche il multiplayer è un gioco già finito hanno detto che non aggiungeranno cose il gioco è quello fine anche il multiplayer alla fine cioè quello non aggiungeranno cose e 40 euro vanno bene alla fine non è che vai a spendere 60 euro o più per il nuovo spider man o come fu per resident evil 3 e in cinque ore lo finisci anche lì anche lì no 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 cioè ci deve essere un compromesso tra qualità e prezzo cioè se proprio il discorso di prima cioè se tu mi fai un gioco completamente in single player ma dura 4 ore e lo pago 70 euro cioè mi girano le squadre 40 ore 70 euro ci faccio qualcos'altro ma per i casi sono due cioè nel senso o le espansioni che fai e ne fai me le metti gratis però se mi fai anche pagare le espansioni 15 20 euro luna cioè dai ma ti devo prendere a schiaffi di socio nel dubbio però no esatto cioè non ha senso ci deve essere un bel compromesso tra qualità e prezzo cioè lo standard è esatto longevità lo standard del gioco su console che al day one costa 70 euro secondo me è uno standard che deve variare nel senso dipende dal gioco dipende dal gioco perché spider man morales questo qua nuovo io non l'ho provato quindi prendete con le pinze che sorreggono altre pinze che sorreggono questa cosa di quello che so per dire perché non avendolo provato non posso essere l'obiettivo però comunque tutti si lamentano della della poca longevità e secondo me è un gioco che si basa sulla campagna deve essere lungo e che duri poco 70 euro non non li merita per quanto magari possa essere bello divertente se poi comunque ecco non mi aggiunge nulla di tanto in più rispetto a quello precedente perché comunque è stato reputato a detta di tutti una grande espansione di spider man 4 di spider man 4 scusa di spider man per playstation 4 però poi si arriva al discorso che i giochi di ps5 costano un botto cioè non tutti però la maggior parte andranno a costare tanto prendiamo demon souls 80 euro ma non solo quello mi pare altri titoli staranno sugli 80 forse anche godfall sì ah ecco l'altra esclusiva ecco non mi dimentico i godfall per dirvi quanto mi interessa perché quello mi pare venga sugli 80 euro che da una parte ci sta perché comunque la play non costa niente per quello che è che è tecnicamente prendiamo la appunto la play 4 costa 400 euro la play 5 c'è la versione da 400 e da 500 euro e quindi c'hai un salto di prestazioni e di qualità molto alto e allo stesso frezzo quindi comunque ci sta a spendere quegli 80 euro ripeto se il gioco dura quegli 80 ma è esatto voglio dire io gli spenderei anche volentieri 80 euro però tu mi devi fare un gioco longevo tecnicamente oggettivamente bello quindi a livello tecnico fatto bene e che sia longevo scusate la ripetizione però è poi quello il punto perché se io poi lo gioco ci gioco tre ore lo mollo lino lo scafare a prendere polvere non è bello no non è semplicemente 70 euro lì che hai fatto niente è infatti è quello quello è un peccato poi sì ok ed è un po come il il discorso anche che si faceva prima del dell'accompagnamento con un parco titoli ampio su sulle console cioè questo parcavamo anche in live l'altra volta ed è perché perché non si vede un parco titoli ampio o comunque non si sente non si percepisce a livello di console tanto la next gen come una volta e il discorso era scusate se apro un attimo questa parentesi qua che a livello tecnologico l'evoluzione non è una cosa continua ok è una cosa gradini evoluzione tecnologica c'è un nuovo solo può essere l'artx per esempio tutto si rimane per un po di tempo nello stesso standard poi un altro buon tecnologico e via via così ok da play 1 a play 2 o da play 2 a play 3 se ti ricordi all'uscita della console comunque c'erano dei titoli interessanti c'erano dei titoli interessanti e non erano pochi ecco non erano non erano proprio pochissimi erano già preparati erano già preparati esatto e poi io mi metto nei panni magari dell'azienda che sviluppa cioè tu immaginati da play 1 a play 2 tua azienda dopo che vedi le tecnologie della playstation 2 non puoi pensare di continuare a fare giochi che siano o cross gen tra play 1 sia su play 1 se poi due o giochi ancora per play 1 quindi è normale che poi ti butti immediatamente sulla nuova console oggigiorno per quanto riguarda principalmente il passaggio che può essere da play 4 a play 5 non è un passaggio che lo noti tanto è un ottimo passaggio a livello tecnico è ottimo adesso la console c'è l'artx adesso si va a 60 frame meno male e supporta anche tutte le altre risoluzioni tipo la 4 se lo metto nel almeno nel mio schermo 2k me lo fa in 1080p esatto esatto ma è anche a livello di sviluppo videoludico quel tipo di tecnologia che non spinge immediatamente un'azienda a programmare a sviluppare solo ed esclusivamente per nuove console quindi sicuramente per il primo periodo la situazione sarà sì facciamo i giochi ma li facciamo ancora un po per tutte e due le generazioni classico ma è successo una cosa analogo se ti ricordi anche compri 4 ma alla fine c'è ma come ora per un bel po noi continueremo a vedere titoli per la 4 e 5 film fino a che ne smetteranno di farli per la 4 perché tanto poi quando ci saranno un sacco di unità un sacco di tutte le come si chiamano le offerte le offerte quelle porti la tua e fare di meno l'altra la gente dice va bene va bene non mi interessa vai e quindi ma si come della 3 non fanno più niente come della 4 non faranno più niente come quando poi si andrà avanti della 5 non faranno più niente così via ma infatti ma poi adesso esatto ci vorrà veramente un bel po adesso ci vorrà un po adesso ci vorrà un po vediamo staremo staremo a vedere staremo a vedere intanto comunque mentre attendiamo la prea i5 fortunatamente tra tantissime virgolette a dicembre esce cyberpunk è vero quindi abbiamo possiamo 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 starci fino a marzo siamo a posto poi a marzo siamo a posto come si disse nella nello scorso episodio che parlai si parlava appunto del fatto che può essere un pro un contro che il gioco duri tanto e ovviamente questa è una cosa puramente soggettiva oggettivamente è bene che un gioco duri tanto appunto per il discorso di prima lo paghi tanto ci devi giocare tanto io di di solito faccio un paragone tipo ogni euro che ho speso deve essere almeno un'ora di gioco onesto di solito faccio questo paragone perché dice vabbè mi metto lì a sedere e pago un euro ogni ora poi se le superi è come dire vabbè come se ho pagato 10 centesimi all'ora e così via un po come se vai a giocare ai biliardo la prendo con questa filosofia ci può stare ci può stare e appunto io mi sono già rotto le palle di giocare a valala perché pur essendo molto bello e mi sono veramente rotto le palle perché la storia per adesso non regge cioè non c'è niente cioè te sei un vichingo cioè proprio te stai vivendo il vichingo non è che stai facendo queste cose per un motivo di storia di trama no stai facendo perché stai vivendo il vichingo almeno per come come sono arrivato io ora cioè sono al 26 per cento del gioco e ho 40 ore e quindi mi sono un po rotto le palle cioè se ero a 40 ore vedevo era al 70 per cento allora vuol dire che ero bello avanti con le principali però se le principali devono essere così no poi uno si butta inizia a fare le secondarie o inizia a girare a caso per il mondo lo fai per qualche oretta e poi ti compi le palle e lo metti nello scaffale esatto perché poi diventa come se le le missioni principali sono belle al pari delle secondarie o magari le secondarie sono meglio delle principali perché almeno le secondarie hai un perché le fai cioè proprio c'è proprio la storiellina tra virgolette sì sì no speriamo speriamo che non sia così per cyberpunk perché dopo che mi mostri che puoi fare di tutto letteralmente di tutto mi crea un mondo di gioco enorme tutto e poi mi fai una storia che magari non è il massimo e io inizio a farmi soltanto le queste secondarie o i fatti miei poi sicuramente essendo che le queste secondarie sono fine a se stesse quindi non è che hai una una storyline da seguire ok cioè comunque alcune magari ce lo possono avere possono avercelo però si finiscono in fretta ecco quindi dopo che magari mi fai tutto questo e non mi prendi con la trama è un peccato è un peccato cioè lì poi veramente c'è il rischio che uno ci gioca con le venti ore si rompe le balle e ciao magari è come magari è come red dead 2 perché su red dead 2 facevi le secondarie o magari gli eventini che capitavano totalmente a caso e però avevano comunque un riscontro nel mondo di gioco ad esempio una volta ho salvato uno che un serpente l'aveva morso ok dopo un po' sono andato in in città e lui era a sedere nella panchina accanto all'armeria e mi ha regalato un fucile ha detto vai lì scegli il fucile che vuoi pago io ma pensa a te quindi se magari fosse una cosa del genere quindi file le secondarie o ci sono appunto mini eventi cose del genere che però possono avere un riscontro nel mondo di gioco anche lì sarebbe no no sarebbe bello io mi ricordo per esempio red dead 2 potrò mai dimenticarmelo né un evento né una storia in una città adesso mi sfugge il nome tu sai che comunque puoi leggere magari si apri il taccuino e tutto l'abbio di di certi posti ok c'era questo negozietto non mi ricordo se tipo la farmacia ora passatemi il termine e tutto le diceva che si dice che il commerciante aveva delle attività rosche nello scantinato ma il gioco non ti dice nulla cioè nel senso non ti dice ok c'è ti metto il pallino nella mappa vai lì a quest'ora esatto c'è solo che succede esatto io mi ci sono messo lì l'ho proprio pedinato proprio stuccherato tantissimo e poi è successo che di notte l'ho visto sparire in una stanza quindi vado lì faccio faccio lo scassinatore a ponere la stanza e vedo che avevo un'attività di ricordo cose e tutto io l'ho smontata quindi l'ho l'ho ucciso ho fatto una strage e tutto però è figo è bello perché non te lo aspetti ed è carino mi pare fosse nella prima cittadelina che mi pare fosse valentine sì 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 valentine vero se appunto andavi nel retro c'era la finestra tutta barricata ma potevi spiare appunto vedevi che c'era l'attività e però c'era anche la porta lì accanto blindata bussare questa tipa che cazzo vuoi e la chiudeva esatto e non è l'unico e non è l'unico posto quindi sarebbe bello questa questa immersività ecco qua si può parlare di mondo di gioco dinamico dinamico speriamo che cyberpunk comunque chiudendo la pariancasi sia in grado di tenerci incollato agli schermi anche perché così finisci finisci ah no dicevo anche perché così fino a marzo siamo a posto comunque nonostante ci spendevo tanto tempo su red dead non mi sono mai rotto le palle sinceramente cioè dopo 20 ore poi l'avevo stoppato mi ero messo a giocare ad altro poi ho ripreso proprio a giocare i videogiochi proprio che giochi a tarco devi giocare soltanto a quello perché se no non fai un cazzo devi stare a te devi metterti in pari con le altre persone e vai a giocare cod ma c'è il battle pass o quello che se lo compri ti devi metterlo devi finire eccetera perdi da voglia ma perdi proprio poi il gusto di giocare io proprio non volevo più giocare a red dead ma a tutti i giochi single player punto per queste cose però ho detto mi ero veramente rotto le palle perché avevo perso il piacere di giocare a un gioco in single player o comunque di godermi un gioco e allora ho detto vaffanculo ho iniziato a giocare tutti i giorni red dead mi sono divertito un botto l'ho finito e ho finito tutti i giochi che avevo lasciato e non avevo mai finito cioè praticamente ho ripreso a diventare un vero videogiocatore perché cioè prendo i giochi single player appunto watchdogs legend l'ho preso e l'ho finito senza stare a dire guarda quegli altri miei amici mi chiamano perché vogliono giocare a cod o a quest'altro no 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 voglio giocare a watchdogs perché se no so che se vado a giocare di là poi non ritorno più su watchdogs e comunque almeno è un ti rilassi cioè no esatto sei per conto tuo ti godi la campagna ti godi la storia e non sei magari stressato e tutto ti rilassi ma ci sta ci sta hai fatto bene è la pura esperienza di videogioco sostanzialmente esatto esatto speriamo di viverla con una bella storia adesso con questi nuovi triple A che si basano sulla campagna come per appunto cyberpunk sempre che si esce a dicembre comunque ormai non so non so boh vediamo mi era arrivata la mail della sedia di della secret lab di cyberpunk che appunto ho comprato e sto aspettando che mi arriva e teoricamente arriva domani per quelli che guardano il video quindi di mercoledì e c'era scritto nella locandina affrettati e prendila adesso prima che il gioco esca a dicembre siamo sicuri sei serio? sei serio? la stai buttando riguarda che poi te ne penti se non la c'è dicembre ah vabbè vediamo ma senti un po' tornando al discorso Sony ma hai letto di quella cosa che Sony finalmente gli si è accesa la lampadina e ha iniziato a dire i servizi digitali stanno iniziando a prendere piede si sempre dal tuo Instagram Game Pass va che strano che strano messaggi subliminali ragazzi si fate un salto nell'Instagram di GamerStuff tutto in descrizione ma come esatto come vedi sta cosa dei servizi digitali era l'ora ma ha più senso che tra l'altro non volevano cadere così in basso mi pare di aver letto proprio c'era scritto quel ciò non volevano fare una cosa del genere quindi eh inizialmente no sostanzialmente diventare avere un servizio mainstream che alla fine hanno tutte le piattaforme del genere però ci sta che cazzo cioè non è che paghi 50 euro o 60 euro mi pare sia adesso all'anno solo per giocare online e avere quei tre giochi mi pare mensili ora non ricordo che però non hai più se non lo paghi e tra l'altro non sono nemmeno chissà che titoli eh sì a parte qualche volta che magari hanno messo dei titoloni come un Bloodborne come queste cose qua non mi ricordo cos'altro era uscito però qualche volta hanno messo dei titoloni ma non è una cosa fissa cioè è un ogni tanto no io sono contento perché provai il mese di prova tempo fa del Playstation Now e mi ha fatto cagare adesso è migliorato tanto eh il Playstation Now perché alla fine cosa dava il Playstation Now prima allora il Playstation Now ti metteva giochi in streaming ok che se avevi se non avevi una buona connessione eri spacciato quindi non me alcuni ma non tutti giochi che puoi anche scaricare quindi non per forza li puoi giocare i giochi in streaming ma scarichi e poi ti mettiamo un bel po' di giochi eh di della Play 2 della Play 3 e tutto però non c'erano questi grandi titoloni a parte qualche titolo non era comunque ricco eh di titoloni e in più i titoloni che magari c'erano non erano giochi usciti recentemente al contrario di come fa magari Microsoft con il Game Pass che ti mette giochi al Day 1 esatto come si è detto la scorsa volta che appunto metteranno Starfield e The Elder Scrolls 6 esatto adesso è giusto giusto adesso è migliorato hanno messo molti più titoli sono molti di più anche giochi scaricabili da quanto ho letto in giro anche il servizio streaming funziona molto meglio prima faceva veramente cagare i giochi comunque non tutti non tutti alcuni non rimangono fissi su PlayStation Now un po' come Netflix ok hai la scadenza tipo tra 72 giorni verrà tolto dal PlayStation Now eh già tipo Netflix c'è sta cosa eh Netflix sì molti film o serie non rimangono Infinity che è quello della Mediaset quello tipo appunto rimarrà fino a un tot e poi superato quel tot ti tolgono magari anche completamente la stagione sì che da una parte allora su dei servizi del genere secondo me non ha senso perché te magari la smetti di guardare perché sei hai un mese stramega impegnato però in quel mese te la tolgono completamente da lì e dice eh ora che cazzo fa dove me la guardo secondo me è inutile un po' come sta cosa dei giochi allora no infatti io poi per carità non sto dietro al marketing di queste cose qua però a me da cliente piacerebbe avere una libreria che non è un togli e metti ma che si ampia sempre di più si ingrandisce sempre secondo me l'esperienza di gioco non diventa bella perché poi dici cazzo lo devo giocare lo devo finire devo lasciarlo perché se no me lo tolgono e infatti io ti dico non so da quanto c'è ma oggi ieri e oggi comunque ho dato un occhio alla libreria di PlayStation Now c'era Days Gone ok che mi interessava perché è un gioco che mi ha sempre un po' incoliosito ma non l'ho mai comprato e tutto 42 giorni e lo tolgono ora per carità non so da quanto c'è però se io adesso mi facessi il PlayStation Now per giocare a Days Gone per quanto magari uno dice ma 42 giorni lo finisci può essere vero poi dipende dai impegni e tutto può essere vero però sei sempre lì col pepe al culo esatto con quello che dicevi te perché sei lì con la fretta devo finirlo a fare non te lo godi perché poi inizi a fare le cose di fretta non te le gusti è un peccato è un peccato però sono contento che Sony ha intenzione di migliorare il suo servizio Game Pass diciamo mettendo dei titoli al day one sì ma poi ha anche più senso ormai puntare sui servizi cioè non ha senso fare ancora queste cazzate di metterti i giochini a fine mese ma mettimi un servizio completo che io posso giocarmi quel che minchia voglio e però ti pago mensilmente come World of Warcraft cioè paghi 13 euro e ci giochi al mese ora io ho una paura ho una piccola paura su sta cosa dei servizi non vorrei che poi Sony Microsoft Steam chissà magari anche Epic va a finire come Netflix Disney Plus Prime Video cioè tu devi pagarti quei 3-4 servizi al mese perché hai i giochi che ti interessano sia qua sia là sia qua cioè è vero questa è una cosa che un po' un po' mi preoccupa della cosa dei servizi però se ci pensi magari appunto c'è quel gioco che ti interessa sulla Play 70 euro c'è quel gioco che ti interessa su PC su Steam 70 euro c'è quell'altro gioco che ti interessa su Epic 70 euro quindi ti hai già speso quanto è 140 più di 200 euro 210 euro per tre giochi e magari invece hai hai tre servizi spendi 12 euro ciascuno 13 che ne so mettiamo a 15 e hai speso 45 euro e li hai tutte e tre e di più no quello è vero quello quello è vero quello no no è vero è vero sicuramente dalla parte dipende un po' ad esempio io stavo pensando se farmi quello di Uplay perché c'era Legion però non mi ricordo se c'era anche Valalla però lì spendevo 15 euro mi sembra li avevo tutti e due però per un mese e anche lì poi ti metti il pepe al culo perché dico vabbè io non so quanto ci metto e alla fine ho speso perché c'è questa cosa intelligente che con i punti di Uplay che prendi livellando o facendo sfide con 100 punti hai il 20% di sconto e quindi io invece di pagare due giochi in totale 120 euro ho pagato 97 euro quindi ho risparmiato più di 20 euro che schifo non fa però li ho lì e me li gioco con calma quindi se io tra un non so 3-4 mesi voglio riprendermi Valalla non ci sono problemi ce l'ho invece di rispendere 15 euro poi magari non ci rismetto poi ripassano 3 mesi e rispendo altri 15 euro poi alla fine mi è venuto a costare 150 euro un gioco no sì perché la cosa del servizio ovviamente deve essere accompagnata non lo faccio per un titolo ma lo faccio per tanti titoli quindi tu ovviamente a parte magari in questo caso un Valalla e un Watch Dogs Legend mi dovresti offrire tanti altri giochi e non tanti altri giochi esatto tanti altri giochi giochi è questo il punto è proprio questo il punto però no 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 è vero messa su questo piano bilanciando diciamo le due modalità di spese sì se tu comunque bastano soltanto due giochi da 70 euro che magari vuoi comprare nello stesso mese sono già 140 euro è già diciamo tutto il prezzo che puoi fare tra magari il servizio di Game Pass quello del PlayStation Now ci metti Netflix Disney Plus ci li metti tutti hai speso i tuoi 140 euro e c'è tutto però c'è tutto c'è tutto non hai due cose che a me non piace ad esempio su Amazon Video o Disney Plus eccetera è un servizio che te o come mi pare e anche Infinity comunque te paghi mensilmente però all'interno ti mettono anche cose a noleggio cioè io cavolo vedo cioè io pago perché so che posso avere mensilmente magari anche cose interessanti da vedere vado lì ma lo devo pagare quello è vero e secondo me non ci sta cioè non lo mettere su un servizio che già te paghi un po' come Stadia te paghi per giocarci ma poi devi comprare i giochi no quello non non lo trovo come cliente non lo trovo senza e quindi più o meno appunto ti mettano non ti mettono tutti i giochi cioè a sto punto fai 15 euro e butta tutti i giochi no infatti cioè o al massimo puoi fare la cosa come ehi se paghi 10 euro al mese c'hai non tutti i contenuti ma quasi se ne paghi 15 c'hai tutto tutto ma non che mi fai soltanto magari un piano che costa ipotizziamo 15 euro al mese e non ho proprio tutto perché poi il resto non sono cose che aggiungo 2 euro e c'ho per tutti e sono cose che magari devo comprare 5 euro 1 5 euro l'altro 5 euro l'altro ancora cioè non è una cosa carina ragazzi fate come Netflix ti fai l'abbonamento però spendi questi 15 euro al mese ma poi c'è quel gioco che ti interessa ma lo fai in del culo perché non c'è nel servizio e quindi 15 euro più i 60 euro e poi va a finire così e alla fine non ha senso comunque cioè alla fine dopo su quest'altro punto di vista ha più senso pagare gioco a gioco se tanto poi te spendi 15 euro perché incroci le dita che ci sia il gioco che vuoi e poi non c'è eh no cioè tutto vorrei dire che poi alla fine la cosa dei servizi è una dei servizi digitali è una cosa valga tutto sta a come poi vengono vengono diciamo messi al pubblico cioè cosa mi offri e quello che mi offri deve essere quello non come dicevi te magari con disney disney plus o comunque anche prime video perché anche io ce l'ho lo vedo che poi ti ritrovi un bel po' di roba perché non è poca non è poca un bel po' di roba che magari devi prendere io l'altra volta per esempio stavo cercando un film adesso mi sfugge il titolo e sei la classica ricerca è incrociata netflix ok no non c'è sì esatto sì io con matrix praticamente esatto con signore degli anelli passo a prime video sai quando ti te lo trovi te li suggeriti perché se c'è te li suggeriti già di che bello quindi clicchi beh noreggia ma va a cagare dai è vero che falla quella è veramente una rottura di falla che poi ormai sono film vecchi secondo me potrebbero benissimo lasciarli però parlando di giochi da una parte ci può stare che comunque è costoso anche fare un gioco e guadagnano di più se paghi gioco gioco però io credo che netflix quando prende una cosa che non fa netflix dia dei soldi per averlo lì una cosa questo potrebbe farlo anche sony per le esclusive sony tanto sono di casa le possono benissimo mettere nel servizio invece le cose di terze parti danno dei soldi esatto a chi l'ha fatto e lo mettano sul sul play insomma sul pass eccetera e ci guadagnano tutti sostanzialmente giocatori e sony e quelli di terze parti tanto comunque c'è un database dietro quindi tu vedi comunque quanti scaricano quel contenuto e puoi capire è un po' come puoi fare il paragone ok quanti l'hanno comprato così sai anche quanto offrire magari all'azienda giustamente l'azienda in questo caso di terze parti che sviluppa non ci deve perdere perché sennò a quel punto non accetta magari non è che perde quella di terze parti ma ci perde la sony ad esempio prendi Mixer della Microsoft ha preso l'esclusiva di Ninja per 50 milioni mi pare poi ha preso l'esclusiva di Shroud per 25 ok ed è fallito qui chi ci ha perso non gli streamer perché hanno preso un pacco di soldi e ora sono tornati nella loro piattaforma dove su Mixer tipo Ninja arrivava sui 9000 spettatori mi sembra Shroud sui 3000 e adesso vabbè Ninja non è proprio tornato su Twitch è andato a fare solo video però e se lo può permettere tanto ormai i soldi Shroud è tornato su Twitch è tornato a fare i suoi 40 mila spettatori un pacco di soldi anche di là quindi ci ha guadagnato quindi in questo caso Microsoft ci ha perso esatto quindi stessa cosa sostanzialmente Sony quindi alla fine è Sony che dice ok noi vi diamo 50 milioni se fa più scarichi il gioco di quanto sarebbe stato il prezzo più di 60 milioni in totale alla fine loro comunque hanno preso quei soldi e avrebbero potuto fare di più ma non ci hanno perso e se invece fa di meno quelli di terza parte ci hanno guadagnato e Sony ci ha perso no esatto serve questo compromesso qua perché sennò giustamente uno si fa indietro e quindi poi il parco titoli mi rimane spoglio e così creiamo il parco titoli completo come Netflix ti diamo tutto al day one qualsiasi cosa e la paghi 15 euro al mese esatto e questo secondo me è un ottimo modo per fare sì no no infatti però dall'altra parte è un parco titoli che si deve ampliare cioè io non voglio togliere metti non voglio togliere no quello davvero perché a differenza di un film che bene o male comunque lo trovi da altre parti è tutto già un videogioco poi se non lo trovi te lo devi comprare comunque un film poi parlando cioè te lo tolgono tra un mese vabbè in un mese troverò un'ora e mezzo per vederlo esatto un videogioco magari è un gioco che ti dura prendiamo Red Dead Redemption ti dura una 50 ore e devi trovarle in quel mese che poi te lo tolgono eh infatti infatti quindi no quello è un attimo da analizzare ma a proposito sempre parlando di Red Dead Redemption ma tu sai che è uscito questo leak anche su Amazon che l'hanno messa in vendita dove stanno per cioè hanno messo in vendita poi subito tolto ovviamente una collection di Red Dead Redemption dove c'hai Red Dead Redemption 2 potenziato potenziato che cosa vuol dire potenziato con l'RTX boh può essere ok perché deve essere ancora più potente di già com'è ma è un Red Dead Redemption 2 potenziato e poi molto interessante un remake del primo Red Dead Redemption 1 ora Rockstar non ha ancora detto nulla il leak comunque sembra molto valido poi sai quando Amazon Amazon ma Amazon successe anche con la Play con la Play 5 praticamente spoilerò il prezzo spoilerò il prezzo e ci ha preso e ci ha preso e ci ha preso giustamente perché costando da mo magari comunque queste cose le fanno apposta proprio gli dicono creano hype creano hype e ci sta funziona perché ne stiamo parlando esatto ne stiamo parlando si fanno articoli e cose quindi esatto e la cosa interessante è che per Dead Redemption 1 non sarebbe male perché tu hai la mappa ce l'hai già la mappa ce l'hai già perché è quella del 2 quindi tu alla fine John Marston ce l'hai già anche quello lì ce l'hai non sarebbe male sei cotto devi alla fine aggiungere le quest e non sarebbe male che magari partisse direttamente da come finisce il 2 quindi c'hai anche quel qualcosina in più che nel primo non hai è vero non sarebbe male questo cioè sarebbe una figata se ti implementassero non è che ti vendono il gioco sarebbe figo proprio come se fosse un DLC te devi aggiornare Dead Redemption 2 e continua continua la storia con John e effettivamente quello che poi facevi nel in quello originale così sarebbe ganso credo difficile perché c'è tutto in uno è difficilissimo però c'è tutto sarebbe bello sarebbe ganso però ecco visto che Rockstar sta vabbè lo do per scontato ormai sta facendo una cosa del genere spero veramente che ci pensi a collegarsi direttamente al finale del 2 a questo punto quindi aggiungere qualcosa in più che non sappiamo magari o che comunque non è stato giocato su John Marson e poi ripercorrere Red Dead Redemption 2 con le tecnologie attuali quindi non avere una remastered ma magari avere proprio un remake visto che comunque ripeto i modelli c'è gli asset c'è già la mappa c'è già c'è già tutto devi soltanto rivedere due cose e poi aggiungere tutta tutte le cutscene i filmati eccetera eccetera parlando di di Red Dead io non sapevo che sostanzialmente Red Dead era un pre-sequel di ah no e quindi io vabbè non mi ricordo quando uscì Red Dead Redemption però lo comprai subito quando uscì quindi ero un ragazzino non so se avevo 10 anni non so se era tipo il 2008 te lo dico quando è uscito dai comunque una vita fa quindi non mi ricordavo che effettivamente il protagonista di Red Dead Redemption il primo era John Marston ah sì dieci anni fa eh cazzo 2010 e quindi avevo 11 anni quasi 12 anni praticamente e quindi vabbè non mi ricordavo niente e poi arrivi mio fratello eh infatti guarda che dopo po' che l'avevo finito ma guarda che John è quello del primo ma come è quello del primo sì è quello del primo Red Dead Redemption 2 sarebbe un presidio ah eh lo sapevo e quindi per questo ora spero tutti l'abbino finito quindi lo vado a spoilerare sì attenzione spoiler raga e quindi coso che Arthur muore e poi passa a John io dicevo cazzo ma a me piaceva un sacco Arthur ma io voglio continuare a giocare Arthur e invece no perché l'avvenire il pre-sequel doveva andare così e quindi ora c'è John esatto esatto e infatti poi nell'1 se ti ricordi tu dovevi uccidere tutti i membri rimasti in vita e diciamo cattivi della banda in cui facevano parte John e Arthur tanto è vero che il boss finale di Red Dead Redemption 1 è Dutch ah è vero perché Dutch alla fine alla fine nel 2 lo lascia andare esatto a un po' buon opinion ho preferito di più Arthur come personaggio e l'istate John Masson come caratterizzazione era proprio più cazzoso più non me ne frega niente era proprio cioè non troppo me ne frega la niente era un bonaccione però era bello cazzuto cioè proprio mi piace proprio la timeline della sua storia mi piace come è stato caratterizzato no mi è piaciuto mi è piaciuto brava nozza invece John vabbè è il bravo ragazzo che vuole rimanere bravo sostanzialmente cioè bella storia bellissima bel personaggio però sì 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 no ma poi oh sono gusti il buon Red Dead ballo ballo niente finito di parlare di Red Dead voglio parlare del fatto che per giocare a Red Dead ci vuole una buona scheda video che collegamento c'è questo leak della 3060 Ti che dicono sarà più potente della 2080 Super per i primi benchmark ora ora non sono andato a rileggere questo era di inizio settimana mi sembra non sono andato a vedere se c'è stato qualche cambiamento però sostanzialmente una 3060 Ti più potente della 2080 Super la 2080 Super costa sugli 800 euro mi sembra e se la 3070 la fanno pagare 500 euro e che la 360 Ti la fanno pagare 200 300 euro non lo so e anche lì è stonks però alla fine dici ah beh se io volevo da 2080 Super che costa 800 mi ci compro la 3080 che ci risparmio è vero anche quello però cazzo hai una 2080 Super per 300 euro forse non li so i prezzi eh no non è male ma tanto qua il problema è uno riuscirei mai a trovare queste cose nella vita perché ormai è diventato impossibile è diventato impossibile se le trovi te le sparano dei prezzi indecenti cioè io ho visto tra volte abbazzicavo un pochettino per le 3080 oh 3080 founder a 700 ciao ormai sono introvabili ci sono solo le custom le custom come ben sapete si aggirano tra i 100 150 a volte 200 euro in più anche da che da che mar la rogstrix che volevo prendere io già erano 950 euro ah io ho trovato una buona custom della 3080 800 euro quindi 100 euro in più a quale le founder poi bazzico ancora 1200 1300 1300 praticamente ho visto una 3080 custom costare quanto una 2080 ti o una 3090 founder ishion cioè è una cosa in decennio io aspetterò dovrebbe uscire la versione ti della 3080 quindi aspetto quello dovrebbe costare sui 999 dollari quindi penso che la custom rogstrix più o meno venga sui 1400 euro quanto ho pagato io la mia 2080 ti quindi se riesco poi posso fare sta cazzata di rimandarla indietro ad amazon tanto ci sono due anni di garanzia legale posso rimandarla indietro con quei soldi per riprendermi la 3080 ti perché io alla fine questa 2080 ti la comprai perché avevo dei problemi di raffreddamento con la mia 1080 ti mi raggiungeva delle temperature assurde e ciò è successo dopo che la smontai per cambiare la pasta termica e il fatto è che ci ho pensato veramente ma io tipo un un mese fa ci ho pensato e io l'ho comprata a giugno che quando io smontai la scheda video praticamente le striscette di pasta termica che ci sono sulle v-rame eccetera si erano un po' staccate ed erano molto fini e allora ho detto cazzo ma a me bastava comprare i faddetti queste striscine e ricambiarli non spendevo niente e c'avevo ancora la mia 1080 ti però se l'hai presa mio babbo e infatti raggiungeva 90 gradi apriva il gioco la scheda video al 100% 90 gradi allora sono andato un po' a cercare invece di fargli comprare proprio un le strisce termiche gli ho proprio fatto comprare un affare che non mi ricordo come si chiama ma è sostanzialmente un nuovo sistema di raffreddamento ah pensavo un nuovo fornaio da cucina 25 gradi in più a chi vi accento perché ci metto l'ovettino sopra e niente quindi gli ho fatto comprare questo affare 80 euro e senza toccarla quando gioca sta sui 62 gradi senza fare niente è tornata 30 gradi in meno praticamente e quando sta in idol 20 gradi che cioè la mia in idol sta sui 35 39 dipende poi se ho la porta aperta arriva anche a 27 perché c'è un ghiaccio in casa si muove no ci sta ci sta boh per queste schede speriamo speriamo siano trovabili ecco ha dei prezzi ragionevoli perché ormai no veramente non so se è a causa anche del fatto che la gente comunque è giustamente a casa per contenere il più possibile la pandemia e tutto quindi mi raccomando ragazzi rispettate le restrizioni abbiate qualora magari le restrizioni non sono precise abbiate discernimento questo perché cioè la gente che si lamenta che cazzo non posso uscire per un mese cazzo ma hai 20 anni hai altri forse 60 70 anni da vivere che cazzo ti costa un mese infatti ragazzi poi viviamo nell'era di internet capisci che un mese in casa per quanto può risultare pesante ok però è tra virgolette godibile te lo puoi passare tranquillamente pensa a una cosa del genere se fosse successa anni e anni addietro quando non c'era internet quindi un mese in casa significa un mese estragnato escluso dal mondo proprio se lo viveva completamente non ne fregava un cazzo il virus cioè proprio andavano e non non avrebbero rispettato proprio niente prima se fosse successo tanto tempo fa a me per come la mentalità odierna purtroppo quindi ragazzi parcavamo di servizi digitali benissimo fatemi Netflix non scassate le baghe venite a casa evitiamo di contagiare il mondo e via così se avete un computer 13 euro al mese o anche 10 euro però vi consiglio quello a 13 euro game pass ultimate avete l'ira di dio è giocata a qualcosina va bene così anzi tra l'altro vi dirò di più vi dirò di più c'è nome in sky che io adesso l'ho acquistato anche su pc cioè avevo su play l'ho riprovato ieri col vr mi sono divertito un botto però è tutto però l'avevo acquistato quando era uscito io e Matteo si preordina mamma mia l'incurata quel gioco che ci ha dato però però comunque si sono fatti perdonare sono passati degli anni ma adesso si può dire e posso dirlo è un giocone è un giocone ma anche io ci sto giocando cioè ora da quando è uscito Valhalla non ci sto più giocando e ora che ho iniziato World of Warcraft proprio non ci giocherò ma ci sta giustamente però no min sky comunque è ultima prima dell'uscita di Valhalla ci ho giocato veramente tanto ci ho ripreso a giocare infatti adesso anch'io ci sto giocando con un amico ciao Alex grande Alex e ci stiamo divertendo un botto no bago bago quindi ragazzi state a casa se avete un pc o comunque un xbox fatevi il game pass giocate a nome sky che tanto prima che lo finite ce ne vuole è voglia non vanno a finita è vero eh no no boh comunque e niente siamo a 55 minuti quindi non arriva non faremo non facciamo mai l'ora quindi va bene no secondo me se mettiamo che dobbiamo fare due ore non rispettiamo nemmeno le due ore no no arriviamo a tre e tra l'altro siamo riusciti a superare l'ora sicuramente ora la superiamo perché abbiamo da parlare dell'ultima notizia della settimana che è sostanzialmente la notizia un po' più bomba rispetto alla playstation 5 che tra l'altro penso di metterla anche nel titolo perché è proprio un mega notizione perché non succedeva da una vita una cosa del genere però no da un bel po' da un bel po' è magico che siamo arrivati a superare l'ora nonostante abbiamo perso ci abbiamo dovuto rifare ci abbiamo perso 15 minuti esatto quindi se non perdevamo quei 15 minuti praticamente si facevano le due ore esatto esatto ma direi quindi parlare di quest'ultima notizia avevi l'onore di introdurla esatto che la capcom è stata hackerata e una cosa del genere tipo hackerarono hackerarono Sony che io ero alle medie madonna e addirittura si dovete fare un il compito d'italiano un tema e io parlai proprio di quello sì sì e e e e quindi cioè che dei hacker attacchino appunto delle cose del genere è proprio un sacco che non succede da quello che ho riletto un pochettino sembra che abbino rubato circa 350.000 cose dati sì perché ho riletto un po' le dinamiche e loro hanno fatto un attacco al database ok alla banca dati in questo caso di CACON da lì ovviamente ha carato il database hai accesso a tutti i file confidenziali o no in questo caso dell'azienda e quindi sì hanno hanno preso un sacco un sacco di progetti medio lungo termine anche e poi chissà cos'altro no ma poi proprio tipo 350.000 ma date di utenti infatti mi sembra che hanno richiesto questo riscatto di 10 milioni di dollari sì che non so se ha pagato sinceramente non so se te l'hai letto tutto no non non so ancora ancora non non ci sono forse delle conferme ufficiali poi bisogna vedere bisogna vedere qual è la mossa di 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 capcom perché sicuramente quando hai a che fare con questa tipologia di gente non è detto che se paghi comunque loro non è se io mi mettessi nei loro panni non è che se mi dai soldi allora faccio di lit e ciao ne avevo 350.000 te li tieni te li tieni perché se te li tieni comunque hai la possibilità di ricattarli nuovamente e purtroppo quindi ci potrebbe essere questo problema quindi l'unico la cosa più intelligente è provare a fermarli anche provare a fermarli magari se hanno lasciato qualche traccia sicuramente le tracce si lasciano quando tu fai un qualunque tipo di attacco un minimo di traccia la lasci che sia dall'IP dall'indirizzo MAC eccetera eccetera non so entrare nei dettagli però è un rischio è un rischio perché se fossero soltanto progetti di Capcom a medio e lungo termine è un problema per l'azienda perché comunque questi progetti pubblicati fanno sì che altre aziende nel settore in questo caso videoludico possano organizzarsi in modo tale da batterli sul tempo però ci sono anche dei dati di utenti dei dati riservati di utenti quindi quello è un bel problema speriamo bene ragazzi speriamo bene una cosa del genere come ha detto Gipo non succedeva da tanto tempo nel settore videoludico si erano rimasti e rimasti e rimango la notte si erano rimasti ai classici attacchi sui vari videogiochi per cheating più che altro non di questo tipo madonna l'ultimo che mi ricordo anch'io è stato quello di Sony che mi avevo preso malissimo perché lì lì era un bel problema perché da Sony una volta di carte di credito cose tutte le carte di credito legate all'account con cui facevi acquisti su PlayStation Store dati riservati tutto lì è stato un bel attacco bello grosso infatti io non lascio mai niente Steam cose non lascio mai niente no uso al massimo fortunatamente un consiglio che vi do anche a voi se volete se vi dimenticate di togliere di deselezionare la casella per lasciare i dati da carta è quello che se la banca ve lo permette di farvi crearvi delle carte virtuali usa e getta o con un periodo di tempo limitato io spesso e volentieri quando faccio acquisti su internet uso quella tipologia di carta o viene come o se no semplicemente c'è se magari uno ha il conto in banca quindi di solito utilizza la carta della del conto in banca per pagare qualsiasi cosa su internet magari si fa la la classica carta della post pay ricaricabile eccetera si carica i soldi come faccio io mi carico i soldi che mi servono poi così li finisco sono a zero e in caso succedesse che se ne frega non c'è niente non lasciare mai il conto ecco quello ma queste sono le basi ragazzi la carta usaggiata ci sta comunque il conto fate attenzione ci sono un sacco di cose che hanno fatto si questi hacker che hanno trovato cose utili per noi queste sono cose utili per noi adesso noi parleremo brevemente un attimo di questa cosa qua ovvero i progetti di Capcom esatto ma così non stiamo non stiamo andando contro Capcom no va bene no vabbè molte cose comunque si sapevano sì vabbè Resident Evil Village si parla vabbè qui non so perché c'è scritto aprile 2020 secondo me hanno sbagliato a scrivere in quest'articolo però comunque comunque credo è già uscito no ora arriva l'annuncio che l'hanno rimandato cinque volte esatto e comunque vabbè ad aprile teoricamente 2021 esce Village per PS4 Xbox One non so perché non c'è scritto PC ma non è scusa anche per Next Gen non dovrebbe essere PS5 anche eh vabbè magari era una cosa vecchia che non avevano aggiornato ah ok ok può essere comunque penso PS4 Xbox One penso sia cross gen comunque PC questo comunque nulla di che perché di Village conosciamo tutti cos'è quando uscirà e tutto quindi a posto parlano anche del multiplayer sempre esatto di Village Project Highway slash Village Online quindi ci potrebbe essere un multiplayer sul nuovo Resident Evil la cosa sarà che c'era anche nel 3 non l'ho mai giocato sì guarda ci ho fatto due partite mi sono divertito talmente tanto che non ho fatto una terza partita né una quarta né una quinta la faccia già lo diceva quando l'ho detta particolare particolare però d'altra parte che cavolo puoi mettere in un gioco del genere boh vediamo cosa combineranno molto interessante il titolo dopo perché io sono un grande appassionato della saga e saturnate che io non so cosa sia io io potrei farti del male fisico no ti consiglio di di spulciarti qualcosa non credo sia autogenere di gioco non lo so forse però è un molto bello molto bello tipologia tu sei un avvocato ok allora il gameplay è praticamente a parte che ha dietro una una storia molto bella delle colonne sonore fantastiche ma a livello di gameplay comunque tu sei questo qua si chiama phoenix wright è un avvocato penalista difensore quindi tu hai a che fare in caso di omicidio queste cose qua oltre che a continuare la tua storia in principale poi ogni caso c'ha la sua storia molto bella con tanti colpi di scena che non ti aspetti non scontato il gameplay è a dialoghi e tra virgolette punta e clicca cioè tu hai una fase investigativa dove vai sui vari luoghi del crimine nelle varie location a cercare indizi parlare con le persone con i vari testimoni e tutto parlare comunque anche con l'imputato che in questo caso è quello che devi difendere e poi c'hai la fase in tribunale molto figa dove praticamente vengono i testimoni a depositare quello che hanno visto e tu devi incalzarli o trovare una contraddizione se tu sei sicuro che comunque l'imputato non è colpevole allora per forza di cose uno che gli va contro sta mentendo quindi è molto figo che tu tramite le parole tramite le prove cerchi le contraddizioni e poi pian piano durante il processo in tribunale la verità viene a galla molto molto bello gioco molto molto bello e sono contento che ne vogliono fare uno nuovo a questo punto che come dice l'articolo uscirà per Nintendo Switch e PlayStation 4 io credo forse anche per Next Gen vabbè ora non si sa perché comunque vedendo quello che hanno scritto di Village quindi non si sa esatto però sicuramente Switch e PS4 sì poi parlo di questo Ghiliottin che è un nome in codice di un progetto in arrivo a maggio ok un progetto e basta quindi a maggio ci sarà un qualcosa poi c'è Project Rewa anche questo in arrivo a maggio che non so se te sai che cosa sia visto qualcosa o è una cosa che non hanno mai mai detto non lo so non lo so zero proprio cioè ma queste ragazzi sono cose traperate a causa di questo attacco non ci possiamo dilongare più di tanto solo in questa è interessante questi due Monster Hunter sì Monster Hunter Rise PC ottobre 2021 e Stories 2 giugno 2021 allora Stories 2 vuol dire che c'è anche un 1 se la logica non è e voglio vedere che io da grande fan di Monster Hunter e non sono sarcastico Monster Hunter era una delle mie sagge videoludiche preferite voglio vedere Monster Hunter Stories che roba è fammi andare a cercare anche a me così magari lo metto però si distacca tanto dalle immagini che sto vedendo dal Monster Hunter che tutti noi conosciamo ma dici lo Stories sì lo Stories sto vedendo il primo le immagini che sostanzialmente grafica cartoonesca sì sembra praticamente uno Zelda da a vedere a vedersi quindi ok se no c'è anche il Rise Rise non saprai sinceramente non non saprai cos'è non lo so sono andato a vedere ha anche beh un classico Monster Hunter con grafica classica di Monster Hunter ok comunque Monster Hunter non è Monster Hunter che attendo già magari Rise può essere più interessante però niente buono a sapersi interessante e poi vabbè Resident Evil 4 per Oculus che a me non interessa poi vabbè te ce l'hai no vabbè aspetta parliamo un attimo di sta cosa parliamo un attimo allora a parte che io sono contrario al remake di Resident Evil 4 bello bellissimo Resident Evil 4 ma era quello che necessitava di meno risentiva di meno di un remake avrei preferito un remake in stile Resident Evil 2 di come hanno fatto intendo per Resident Evil 2 su Code Veronica su Code Veronica sarebbe stato molto molto bello o su Resident Evil 1 o sullo 0 di fatto in quello stile più che altro Code Veronica ma al di là di questo sono contento dell'implementazione dell'Oculus perché io ad oggi posso dire che l'unico gioco in cui mi sono divertito veramente tanto col Playstation VR è stato Resident Evil 7 vabbè non ce l'ho io sto un po' pieno di questa cosa qua ho paura però perché Resident Evil 7 è in prima persona Resident Evil 4 è in terza persona quindi sono curioso magari l'hanno fatto in prima persona eh può essere magari se giochi con hai la possibilità di switchare magari non lo so vedremo vedremo e poi comunque c'è questo shield che è un nuovo sparatutto multiplayer nuovo shooter perché anche quello non credo che ci abbiano mai detto qualcosa no Dio sappia no Dio sappia no e niente quindi e direi che a quanto siamo di quanto abbiamo spavato e un'ora e otto sinceramente meno l'altra volta erano ora un quarto eh ma adesso tra chiusura è tutto fidati che magari sì vabbè ora chiudiamo veloce anche perché io devo andare eh io anche che ho un po' di robina da fare e nulla signori io spero che siate rimasti fino alla fine anche questa volta sinceramente sono contento come è andato anche l'altro ho avuto un buon response e no no speriamo anche questo sia vada bene come l'altro o se magari meglio esatto come sempre direi di fateci sapere ovviamente lasciate sempre un feedback nei commenti e diteci anche la vostra sempre tramite i commenti sui argomenti che abbiamo trattato in questa puntata o magari anche qualche domanda in caso se poi ce ne ricordiamo se è una domanda interessante si può rispondere anche per discutere su quella domanda insomma qualsiasi cosa vi viene in mente ricordate che esiste la la zona comandi oh con 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 qualche buccia vero poi niente vi rimando in descrizione perché ci sono tutti i link utili instagram twitch di dylan instagram mio il patreon tutto tutto in descrizione tutto e quindi nulla noi ci si vede la prossima settimana appuntamento sempre alle 14 e speriamo ci sia sempre qualcosa di interessante di cui parlare esatto probabilmente quindi quindi ragazzi grazie per averci seguito e vi aggiamo una buona giornata buona giornata ci si vede martedì prossimo nella taverna ciao ragazzi grazie a tutti ciao 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 Grazie a tutti.